Coniugare l'ebbrezza di un viaggio su due ruote con la scoperta di luoghi incantevoli e ricchi di storia e natura di cui la nostra Basilicata è ricca. Una straordinaria occasione di promozione turistica e sana attività fisica, ha sottolineato il consigliere del gruppo misto Aurelio Pace, che ci viene fornita da Due Ruote on the road alla scoperta dei tre castelli, il motogiro turistico fra le colline del Vultore che si terrà domenica 11 giugno. Il mototurismo ha sottolineato Pace e la definirei una filosofia di vita, un viaggio di conoscenza alternativo, a stretto contatto con la natura, su strade secondarie, anche non asfaltate, per raggiungere borghi e luoghi da assaporare. La straordinaria idea che hanno avuto è quella di promuovere attraverso un giro in moto per i castelli lucani le bellezze federiciane di Melfi, la straordinaria suggestione del Dearte Venandi-Cumabibus attraverso lago Pesole e quella valle di Vitalba straordinaria, per concludere al castello Piro del Balzo a Venosa. La conoscenza di un territorio straordinario come il Vultore attraverso un atto di aggregazione straordinaria che è quello dei motociclisti, provenienti da più regioni d'Italia a vedere una delle terre più belle d'Italia. Questo è un territorio che ha strade che ogni tanto noi critichiamo ma che non mancano di tornanti e di emozioni per i motociclisti importanti, sono un popolo autentico che vive il territorio e lo rispetta e noi siamo felici di ospitare in Basilicata uno dei più grandi eventi. Grazie al Motoclub Melfi, grazie a chi ha voluto rendere questo territorio protagonista di questo momento.